Matteo Salvini Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Scusate il ritardo, ero in call sull'agricoltura con Palazzo Chigi perché è un tema abbastanza caldo e quindi fra IRPEF agricola, assicurazioni, PAC, direttive europee emissioni dei bovini stiamo cercando di aiutare un settore che è fondamentale innanzitutto grazie è una tappa di un percorso con cui stiamo girando da Bolzano alla Sicilia spiegando a un anno e pochi mesi dall'insiedimento del Governo come stiamo investendo i vostri soldi lo ritengo un dovere, non un piacere andare a Milano piuttosto che a Potenza raccontando che progetti abbiamo trovato a che progetti stiamo lavorando a quali priorità stiamo dando seguito a cosa stiamo finanziando ovviamente un ministero come quello delle infrastrutture e dei trasporti accompagna i risultati di chi c'era prima di me quindi una parte di quello che vedrete oggi ovviamente ha in me un merito pressoché pari allo zero e quindi il merito va a ministri precedenti amministratori delegati precedenti e sindaci precedenti però diciamo che noi oggi stiamo riempiendo di contenuti quello che è l'arco del prossimo decennio perché mi sono dato qua ci sono anche parecchi imprenditori ovviamente non posso permettermi di lavorare a breve termine bisogna darsi una scadenza temporale almeno decennale per recuperare qualche anno di ritardo soprattutto in una terra come la Lucania che avendo meno di 600.000 abitanti e quindi avendo meno di 600.000 elettori non sempre magari nei dossier era prioritaria per quello che mi riguarda io cerco di essere oggettivo ed equo nella distribuzione è chiaro che qua c'è un ritardo infrastrutturale più pesante rispetto ad altre zone del paese e l'infrastruttura e la logistica sono industria, sono commercio, sono turismo sono salute, sono studio, sono sicurezza stamattina sono andato a ringraziare gli operai e i tecnici sulla titobrienza perché anche un comune di poche migliaia di abitanti torna a respirare evidentemente era attraversato da migliaia di veicoli compresi autorarticolati, die che attraversano il centro di un piccolo e straordinario paese avere un'alternativa significa tornare a respirare da parte di quei bambini e di quegli imprenditori mi sono ripromesso di tornare a marzo quando verrà aperto anche lo svincolo per tornare a Brienza cosa ascoltiamo? sono i giorni di Sanremo quindi non faccio balletti non faccio altro però ho cercato di assumere strade, autostrade, casa, acqua in una terra come la Basilicata importante ferrovia, logistica e infrastrutture piccole e medie e grandi che cosa c'è in ballo per la Basilicata al ministero in piazza di Portapia con qualcuno di voi ci siamo già incontrati per ragionare di innovazione con altri magari ci incontreremo quindi conto di rimanere entro i 59 minuti quindi perché il tempo è denaro soprattutto il venerdì ho cominciato queste presentazioni lunedì però lunedì tendenzialmente uno è un pochino più nervoso ho capito che il venerdì arrivando alla fine del percorso settimanale magari c'era più voglia di capire e di ascoltare quindi ci saranno dei focus nazionali io ho chiesto ai tecnici che ringrazio molti dei quali sono qua presenti dal capo del legislativo all'amministratore delegato di Ramma Pasquale Pepe che è nello staff che lavora con me a Palazzo Chigi ed è un lobbista per la Lucania di assoluta eccellenza ringrazio il governatore, ringrazio il sindaco e gli amministratori locali abbiamo dovuto, ecco la soddisfazione che abbiamo dovuto chiudere a un certo punto gli accrediti perché più di un tot qua dentro non ci si stava ed è bello perché le infrastrutture, i trasporti e la logistica non sono qualcosa che di solito eccitano i giornalisti o scaldano i cuori però sono fondamentali io girando l'Italia mi accorgo che se ci sono centinaia di persone che in un giorno lavorativo si prendono una pausa dall'azienda per venire a cercare di capire che cosa sta succedendo e cosa succederà mi dice che siamo sulla strada giusta quindi ci sarà un focus nazionale con tempi certi e numeri con chilometri e budget non è il libro dei sogni è quello che c'è e quello che mi piacerebbe ci fosse visto che ci diamo come deadline i tre anni e otto mesi che abbiamo ancora di legislatura davanti più ovviamente processi democratici permettendo anche i cinque successivi per arrivare a compimento a quel 2032 che c'è alle mie spalle quindi un focus generale poi con un'attenzione a quello che è previsto per la Basilicata che penso sia di interesse di tutti voi io poi non so dove mi devo mettere per evitare di rompere le scatole comunque perdonatemi non è il mio mestiere venire a presentare comunque partiamo dal tema strade e io ricordo che ogni cantiere significa posto di lavoro un miliardo di euro di opere pubbliche significa circa 17-18 mila posti di lavoro quindi ogni cantiere sbloccato per me significa avere operai, ingegneri, artigiani, geometri e mano d'opera con uno stipendio al 31-12 oggi ANAS ha circa 2.000 cantieri aperti per 4 miliardi e mezzo di budget proprio nelle ultime ore questa settimana abbiamo perfezionato il contratto di programma ANAS a livello nazionale del triennio che prevede 39 miliardi e mezzo di budget totale di cui 31 miliardi di nuove opere questo è il focus nazionale, veniamo alla Basilicata la rete stradale gestita da ANAS è superiore ai 1.000 chilometri e a budget per i prossimi anni ci sono 2 miliardi e 8 divisi in 2 miliardi di nuove opere e 870 milioni di manutenzione programmata 870 milioni di manutenzione programmata una parte l'abbiamo ereditata una parte la stiamo accompagnando sono 394 milioni in fase progettuale 7 milioni di interventi pronti di prossimo avvio 240 milioni di cantieri aperti oggi mentre stiamo parlando qua e 225 milioni di cantieri già ultimati mentre ci stiamo parlando questo pomeriggio nel merito per arrivare al dettaglio quali sono gli interventi in corso per i 235 milioni di qui sopra in Basilicata la Statale 95, Brienza dove sono stato stamattina che è ancora in lavorazione la Bradanica che ha un finanziamento di 77 milioni di euro questo è quello che c'è in corso mentre per nuove opere in progettazione ce ne sono 8 di interesse lucano per 1 miliardo e 700 milioni di investimento complessivo i progetti che sono già finanziati per un importo superiore ai 600 milioni sono la Statale 92 dell'Appennino Meridionale poi l'Itinario Murgia Pollino nel tratto Matera-Ferrandina per quasi mezzo miliardo questo è quello che c'è all'ordine del giorno andando avanti nelle nuove opere in progettazione per quasi 900 milioni di investimento complessivo e poi abbiamo messo il finanziamento sotto ogni voce perché ho letto che qualcuno dice Salvini verrà a presentare no queste non sono fantasie quindi qua ci sono nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali quindi non veniamo a vendere quello che non abbiamo in tasca e qua c'è Salerno Potenza Bari la Potenza Melfi ancora Murgia Pollino in un altro tratto in due diverse diramazioni questo è quello che abbiamo trovato e stiamo preparando Statale 95 ripeto mi piace farlo vedere perché ci siamo stati proprio questa mattina Grazie La Basilicata ha il vantaggio di avere due sole province, però ovviamente bisogna essere assolutamente equi rispetto alle due province perché so bene che la competizione, la sana e onesta competizione fra il Potentino e il Materano ovviamente merita un assoluto e totale equilibrio, già che siamo venuti a Potenza però vediamo di essere rotondi da tutti i punti di vista. Dalla Statale 95 a un'altra Statale, la 18, perché qua c'è un sistema di monitoraggio e un sistema anche di sicurezza, ovviamente noi stiamo lavorando alle nuove opere con una particolare attenzione non solo alla sicurezza dei suoi cantieri ma alla sicurezza della percorrenza per gli anni a venire, quindi ci tengo a far vedere anche quello che è in corso sulla terrena inferiore. E io devo dire che che ne scriva qualche giornale che il personale di ANAS a Maratea e non solo a Maratea si è dimostrato assolutamente eccezionale perché dopo quello che è accaduto sono intervenuti in tempo quasi reale, ne parlavo questa mattina con alcuni dirigenti ANAS, l'obiettivo è di permettere a quella straordinaria realtà di tornare ad avere raggiungibilità in ambo le direzioni per la prossima stagione estiva, ovviamente le frane non dipendono dalla volontà del ministro e del ministero, però curare, bypassare, monitorare è quello assolutamente sì, dipende da noi, passiamo dalla terrena inferiore e chiudiamo con l'ultima, la 658 Potenza Melfi, io stamattina ho fatto in macchina da Roma Potenza e stasera farò in macchina da Potenza Bari, quindi quello di cui sto parlando è qualcosa che ho assolutamente ben chiaro in testa, questo è un intervento per 60 chilometri di lunghezza complessiva, 56 milioni di euro di manutenzione perché va bene progettare nuove opere però poi occorre investire in manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto là dove ci sono, noi purtroppo abbiamo il record europeo di viadotti e gallerie per come siamo orograficamente conformati e quindi è chiaro che non basta progettare nuovo ma devi recuperare la manutenzione che sul vecchio non sempre è stata attenta, abbiamo aggiunto 10 milioni di euro come investimento aggiuntivo nel 2024 più altri 40 per l'ampliamento della carreggiata, questo è un breve focus, poi non sono entrato in progetti minori, sulle strade noi stiamo investendo fra sistema trasporti, FS, RFI e ANAS nell'arco del decennio ci sono 200 miliardi di euro di investimenti programmati, è chiaro che se riusciamo a investire bene 200 miliardi di euro l'Italia cambia da così a così, anche la competitività industriale cambia da così a così. Van bene le strade però bisogna intervenire anche su come si usano le strade, uno dei dati che mi ha più impressionato quando sono arrivato al ministero l'anno scorso è stata la mortalità, 3159 morti sulle strade italiane nel 2022, adesso aspettiamo il definitivo 2023, la prima causa di mortalità per i ragazzi fra i 15 e 24 anni sono gli incidenti stradali, quindi va bene progettare nuove strade però abbiamo preso in mano un codice della strada che datava 1992 nella sua stesura originaria, le strade del 92 di potenza non sono le strade del 2024 di potenza, quindi è in commissione proprio in questi giorni, il bello della democrazia prevede che ci siano più di 700 emendamenti presentati e li stiamo analizzando ovviamente uno per uno, il nuovo codice della strada, conto che diventi norma entro la primavera, non la faccio lunga perché è un articolato complesso però abbiamo fatto alcune scelte di cui mi prendo l'assoluta e totale responsabilità, portiamo innanzitutto l'educazione stradale vera nelle scuole, ai ragazzini, prevedendo anche una premialità per chi acquisirà la patente e per chi ha frequentato davvero i corsi di educazione stradale per evitare che sia l'ora d'aria durante la quale uno va in cortile a giocare a basket o a pallavolo, quindi è chiaro che l'educazione è importante, i controlli della stradale sono assolutamente importanti, la prevenzione è importante e poi però occorre la sanzione, quindi abbiamo introdotto, qualcuno ha detto che è un codice cattivo, perché Salvini è cattivo, io sono automobilista come voi, è un codice attento, è rigoroso, errare umano anche se al volante può essere letale, perseverare è considerato diabolico, quindi stoppa la patente per chi guida ubriaco o drogato, uno dice è già così, non è già così, perché oggi le forze dell'ordine lo sanno, se uno viene fermato a potenza o a matere e risulta positivo al droga test, l'onere della prova sta all'agente di sicurezza che deve dimostrare che il fermato positivo al droga test è alterato psicologicamente. E voi capite che quanto di più soggettivo poi con il sistema giudiziario che abbiamo in Italia, il numero di avvocati che ringrazio anche qua presenti in sala, diciamo che il contenzioso è notevole, questa norma è semplice, risulti positivo al droga test, ti prendo la macchina e ti prendo la patente e poi ne riparliamo alla prossima occasione. Per i recidivi ubriachi che causano incidenti e mortalità abbiamo copiato, perché copiare quello che funziona all'estero è anche sintomo di intelligenza, il sistema che inibisce l'avvio del motore che si chiama alcohol lock, obbligatorio per i recidivi con l'eccesso di alcol. Non abbiamo toccato le soglie di consumo alcolico perché vanno bene quelle che ci sono già, quindi è chiaro ed evidente che il bicchiere di aglianico che ho bevuto oggi a pranzo dal mio punto di vista, dal punto di vista di tanti medici fa bene alla salute, il quinto bicchiere rischia di essere un problema. Come tutto è una questione di quantità e di buonsenso. Regole per le quattro ruote e regole per le due ruote, non so se il problema ce l'abbiate anche a Potenza, ma a Roma e a Milano ci sono monopattini ovunque che sfrecciano a 30, 40, 50 all'ora contro mano e sui marciapiedi, quindi abbiamo previsto come per tutti gli altri targa, assicurazione, casco obbligatorio. La prima causa di incidentalità non è la velocità, non è l'alcol, ma è la distrazione. Qua mi attirerò l'antipatia di qualcuno, però cinque secondi per fare mente locale ciascuno nella propria autovettura, la prima causa di incidenti è il cellulare, perché se non rispondo a questo Whatsapp entro due secondi, se non rispondo allo studio, all'ufficio, alla moglie o al marito è un disastro, può essere l'ultima risposta e quindi abbiamo previsto non più la decurtazione dei punti sulla patente perché ormai è pieno di nonne e nonni con la patente sostanzialmente a zero senza punti perché è pieno di nonne distratte al volante in Italia, abbiamo previsto la sospensione breve della patente a livello educativo e devo dire che i dati della Polizia Stradale di questo 2023 sono incoraggianti perché il solo aver dibattuto in questi mesi di maggiori controlli e sanzioni ha portato a una riduzione del 7 e dell'8% degli incidenti e dei morti e dei feriti. Spero che sia un trend che poi si va a confermare. Per quello che riguarda i giovani, di questo ho discusso con mio figlio, ventenne, però ritengo che sia giusto per i primi tre anni di patente il divieto di guidare auto di grossa cilindrata perché il papà che ti mette in mano il Ferrari pensando di fare una cosa intelligente rischia di fare qualcosa di assolutamente dannoso e poi c'è il tema di cui sto dialogando con i sindaci dell'autovelox, stiamo facendo una direttiva a livello di ministero, l'autovelox per motivi di sicurezza in prossimità di una scuola materna, di un asilo, di un ospedale, di una caserma, di una restrizione, di una strada ad alta incidentalità è assolutamente fondato, motivato e utile. L'anarchia dell'autovelox fai da te messo per motivi di cassa e non per motivi di sicurezza è qualcosa che verrà normata e prevediamo l'omologazione nazionale e il sindaco ha l'onore e l'onore di spiegare perché in quella via mette l'autovelox e perché in quella via mette la limitazione a 30 km orari. Anche qua, 15 giorni di dibattito e di polemica, ogni sindaco conosce la sua città e io sono un autonomista e quindi figurati se io da Roma impongo la viabilità a Potenza o a Matera. Però il codice della strada prevede che in alcuni tratti stradali a rischio, normati e identificati, si possa ridurre la velocità a 30 all'ora. Se tu pensi di costringere tutti in tutta la città a andare a 29 all'ora evidentemente non è un problema di salute ma è un problema ideologico perché la gente ha anche diritto di andare a lavorare. Quindi cerchiamo di dare delle regole uguali per tutti. Poi questa è una roba odiosa, ho chiesto io personalmente l'aumento delle multe per chi occupa abusivamente i posti riservati ai disabili e delle sanzioni che arrivano anche alla sospensione al ritiro della patente per chi abbandona degli animali lungo gli assi stradali perché innanzitutto è un atto di inciviltà poi può essere anche un atto rischioso per gli altri automobilisti e ciclisti. Sulle biciclette abbiamo previsto una distanza minima per superare per me che non può essere come in alcuni casi a Milano una striscia di bianco tirata per terra fra i negozi fermate dell'autobus e carico e scarico merci perché così non si fa il bene dei ciclisti. Sui motociclisti non è nel codice ma abbiamo già investito i primi 60 milioni di euro non so qua quanti siano gli amanti delle due ruote per sostituire i vecchi guardrail con i nuovi guardrail salvavita che sono uniformi fino a terra perché il guardrail che non arriva fino a terra per l'automobile è motivo di salvezza perché ti ferma, per il motociclista che scivola il guardrail può essere il saluto finale e quindi stiamo investendo decine di milioni di euro per salvare le vite di chi va su due ruote. Dalla strada alla ferrovia e quindi alla cura del ferro, anche qua erano 2000 i cantieri sulle strade Anas, coincidenza vuole che siano 2000 i cantieri oggi aperti sulla rete ferroviaria italiana da nord a sud per 3 miliardi e mezzo di euro d'importo totale. Andiamo avanti su quello che siamo riusciti ad avviare come appalti nel 2023 e sono cifre notevolissime senza precedenti perché Anas nel 2023 ha messo a terra 9 miliardi, RFI nel 2023 ha messo a terra 11 miliardi, quindi in totale fra ferrovie e strade sono 20 miliardi di euro, pensate ai posti di lavoro creati e alle aziende coinvolte. Gli appalti attualmente in corso sono anche superiori per 22 miliardi di importi, veniamo alla Basilicata dove ce lo diciamo c'è solo margine di crescita e miglioramento perché tornare indietro è difficile, con il sistema ferroviario in Basilicata far peggio di quello che si è trovato è complicato. Quindi 347 chilometri di linee di cui forse ve la giocate con la Sardegna dove anche lì stiamo investendo e sarà domenica, 136 quindi quasi più di un terzo non elettrificate, 211 elettrificate, andiamo avanti, principali investimenti previsti, 15 miliardi finanziati attualmente 11 miliardi e 4 che per la Basilicata penso sia un corposo intervento, non entro nel merito di tutto però abbiamo messo i principali, mi sposto, battipaglia potenza metà ponto Taranto, una e due fasi, poi la velocizzazione della Salerno Taranto, la potenza Foggia e il potenziamento della metà ponto Sibari per altri 256 milioni di euro. Vediamo alle percentuali di avanzamento sul tema manutenzione e sicurezza e miglioramento delle stanzioni, siamo a più di un terzo dell'avanzamento lavori, un miliardo e quattro di costo di cui quasi 900 milioni di euro già finanziati. Entrando nel dettaglio, fine lavori 2026 per quello che riguarda i due miliardi della battipaglia potenza metà ponto Taranto e a fine lavori con una velocità massima prevista di 200 chilometri orari e poi un video, ci spostiamo dal Potentino al Materano e è una delle prime cose che mi sono arrivate sulla scrivania a Portapia quando ho giurato e parlo della Ferrandina Matera. Il cronoprogramma prevede 20 chilometri di linea elettrificata, 429 milioni di euro di investimento complessivo e anche qua come sopra fine lavori 2026. Poi attenzione, Covid, guerra in Russia, guerra in Oriente, caro energia, caro materie prime, qua chi lavora in edilizia sa di che cosa stiamo parlando sperando che non ci siano incrementi miliardari sui piani economici su cui siamo andati ovviamente a gara. Però io sono ottimista per natura quindi questa è la situazione. Quindi strada, codice della strada, ferrovia. Un'altra delle competenze su cui ho posto particolare attenzione instaurando una direzione ad hoc è quella della casa, dell'edilizia perché è un'emergenza. L'ultimo piano casa risale agli anni 70 come organicamente previsto. Abbiamo già fatto le prime due riunioni del piano casa al Ministero creando quattro sottocommissioni con le cooperative, con le società di costruzione, con gli affitti, insomma con tutto il mondo che si occupa di edilizia, con i soggetti finanziari perché il tema del credito è un tema che abbraccia riguarda tutti. Pinqua, questi sono gli acronimi del PNRR, significa sistemare alloggi e quartieri popolari, è diviso in tutto il paese in tre grandi branche, nord, centro e sud, stiamo lavorando per recuperare 15.000 alloggi, 159 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale per quasi 3 miliardi di euro cash investiti sulle case. In Basilicata c'è uno degli esempi virtuosi, siamo proprio qua, siamo a casa del sindaco Guarente, recupero di 66 unità abitative, 15 milioni di euro l'investimento complessivo e il recupero di quasi 10.000 euro, 10.000 metri quadri di superficie a servizio dei cittadini. Un tema che riguarda tutti, perché abbraccia tutto quello che passa dal Ministero, è il tema dell'energia. Non è direttamente competenza del MIT, perché è soprattutto ambiente sviluppo economico, però è anche di rimbalzo competenza del MIT, perché l'indipendenza, l'autosufficienza energetica ovviamente ci permette di avere un sistema paese più competitivo. Noi stiamo investendo come Ministero sull'innovazione, e poi qua apro una brevissima parentesi, in maniera non ideologica, perché la decarbonizzazione non la fai mettendo fuori mercato fra dieci anni le auto benzina e diesel, quella non è decarbonizzazione, quello è un suicidio economico che avvantaggia la Cina e mette in ginocchio il sistema produttivo italiano ed europeo. Ce lo possiamo dire anche perché i dati, a me piace fare politica per passione, però un Ministro delle Infrastrutture non può fare le infrastrutture per passione, deve poggiare su dei dati, oggi dal pozzo alla ruota, quindi nell'intero sistema cicloproduttivo, un'auto elettrica prodotta oggi, con i sistemi energetici di oggi, emette più CO2 di un'auto diesel. Quindi è veramente un suicidio collettivo da tutti i punti di vista mettere fuori mercato dal 2035 le auto non elettriche. Io sono un convinto sostenitore della neutralità tecnologica, va bene l'auto elettrica, va bene le paleoliche che ho visto stamattina sopra Abrienza, è soggettivo il gusto, io ho il mio parere, però lo tengo per me, va bene l'idroelettrico, va bene i pannelli fotovoltaici, però ci servono i biocarburanti, ci servono i carburanti sintetici, anche perché noi stiamo investendo, sì non c'è Salvini che vuole andare in giro con l'Euro 3, la 128 che aveva mio nonno, però occorre tempo, altrimenti metti fuori gioco un sistema industriale. Noi stiamo investendo sull'elettrico, però questa è la situazione vera che abbiamo a settembre 2023, su tutta la rete autostradale italiana 851 punti di ricarica, motivo per cui su 40 milioni di autovetture in Italia le auto elettriche sono l'1%, evidentemente perché il consumatore fa due conti sul costo, sul beneficio, noi stiamo investendo per arrivare entro il 2025 ad avere 21.000 dalle 851 colonnine di ricarica elettrica, ovviamente però l'elettrico deve essere un'opzione, non deve essere un obbligo o una costrizione, tanto più che proprio qua in Basilicata entrerà in servizio, sempre in questo benedetto 2026, il primo treno a batteria in Italia, quindi la Basilicata è assolutamente all'avanguardia da questo punto di vista, sulla tratta Altamura-Matera, 45 milioni di euro di valore complessivo e 5 treni a batteria acquistati dalle ferrovie Apule e Lucane che ringrazio per l'ospitalità che ci danno oggi. A proposito di futuro non solo elettrico ma idrogeno, noi abbiamo stanziato nel PNRR più di 3 miliardi e mezzo di euro per promuovere l'industria dell'idrogeno con 54 progetti su tutto il territorio nazionale per aree industriali dismesse da trasformare in centrali di produzione a idrogeno, stiamo parlando ovviamente anche di Basilicata con fondi per 28 milioni di euro per nuovi impranti di idrogeno verde in aree dismesse, è chiaro e evidente che oggi ha un costo di mercato che non è competitivo con gli altri prodotti. Quindi è chiaro che nei prossimi decenni va bene l'idroelettrico, va bene l'idrogeno, però pensare che si possa fare a meno delle fonti fossili e del gas nei prossimi decenni è una pia illusione, motivo per cui sono un assoluto e totale sostenitore del fatto che nel pacchetto energetico globale non possiamo essere uno dei pochi grandi paesi al mondo che continuano a dire di no alla produzione di energia nucleare, anche perché oggi pomeriggio 9 febbraio 2024 siamo circondati, questa è solo la situazione europea, le aziende italiane hanno un costo energetico assolutamente superiore ai colleghi francesi, ma molto semplicemente perché oggi pomeriggio ci sono in funzione in Francia 56 reattori di cui uno in costruzione, Ucraina, UK, Spagna, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia, Belgio, Finlandia, Ugheria, Svizzera, Romania, Bulgaria, Slovenia e Olanda e noi no, è un suicidio economico e produttivo. A livello mondiale i paesi più importanti del mondo hanno fatto una scelta chiara, Stati Uniti 93, Cina 55, Russia 37, Giappone 33, quindi io mi domando se non sia il caso nell'anno 2024 di riportare l'Italia nel contesto dei paesi moderni, civili, sviluppati, anche perché l'energia nucleare, secondo i dati della Commissione europea che ha ricompreso il nucleare nella tassonomia, ovvero sia nelle fonti finanziabili, riconosce nel nucleare la fonte energetica di produzione più sicura e meno costosa per quello che riguarda i reattori di ultima generazione. Quindi da questo punto di vista io sono assolutamente un sostenitore della necessità che l'Italia si aggiunga ai 32 paesi sviluppati al mondo che producono più del 10% dell'energia con questa forma di produzione assolutamente sicura che non è alla Chernobyl per intenderci. Dall'energia all'acqua che è un'altra fonte di produzione energetica importante, io da Ministro ho l'onore di presiedere la cabina di regia a Palazzo Chigi per l'emergenza idrica, quindi per la prima volta abbiamo fatto un piano idrico nazionale, abbiamo raccolto entro il 30 ottobre domande da tutta Italia sulle necessità idriche, dall'acquedotto alla diga alla perdita, per ragionare a lungo termine, perché altrimenti a luglio c'è l'emergenza siccità, corri dietro l'emergenza siccità, ad agosto c'è un'alluvione, corri dietro l'emergenza alluvione. Quindi sto cercando al Ministero di fare un piano economico a medio e lungo termine per mettere le risorse senza inseguire il contingente, noi abbiamo centinaia di dighe sotto il controllo del Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti e l'acqua è fondamentale per l'agricoltura, per l'industria e per l'uso civico, evidentemente 182 interventi in corso, più di 2 miliardi stanziati, di cui 839 milioni per la riduzione delle perdite nelle reti, e io pensavo che fosse soprattutto in alcune zone del Paese la perdita da rete, è equamente divisa a livello nazionale anche in Trentino, c'è il 40% di perdite dalla rete idrica. Certo ci sono alcune realtà come la Puglia dove la situazione merita ancora più attenzione rispetto ad altro, però stiamo intervenendo ovunque. Andiamo pure avanti, in Basilicata ci sono 21 interventi programmati, 214 milioni di investimento complessivo. Tenete presente che io sono entrato in ufficio, noi abbiamo giurato il 22 ottobre dell'anno scorso, quindi un anno e tre mesi, ho trovato 117 opere commissariate e quando trovi 117 opere commissariate per emergenza vuol dire che la norma non funziona, perché se ti crolla il ponte Morandi è un imprevisto e quindi commissario straordinario per ricostruire in fretta e furia il ponte. Però se il commissariamento non è un'eccezione ma è la regola, evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella norma a monte e quindi siamo intervenuti sul codice degli appalti e quindi questo l'ho fatto assolutamente con gioia e il monitor quando sente il codice degli appalti si deprime, si spegne, è controllato da qualche sindacato il monitor, quindi il codice degli appalti a qualcuno non piaceva e quindi ha detto io questo non glielo faccio dire, però vado anche a voce, poi se torna bene, se non torna va bene lo stesso. Noi arriviamo, ci insediamo a ottobre, troviamo una bozza di codice degli appalti redatta dal Consiglio di Stato, poi questo è un governo politico, io sono un ministro abbastanza politico, è chiaro che il ministro delle infrastrutture ascolta tutti e un viadotto non è di destra o di sinistra, una galleria, un ponte, una diga e i sindaci che incontro spesso e volentieri, l'incontro in ufficio non sapendo neanche di quale amministrazione facciano parte, perché se un sindaco, mi ricordo quando mi chiamò il sindaco di Maratea per la frana, per me è il sindaco di Maratea, poi se è di qua, di là, civico, sopra, sotto, a me interessa men che zero. Però abbiamo dato un'impronta di cultura politica al codice degli appalti, prima prevaleva il pedisseco rispetto della procedura, noi abbiamo deciso di mettere in testa il raggiungimento del risultato, che per un appalto è l'apertura del cantiere, è la fornitura del servizio, quindi abbiamo tagliato quasi un anno di tempo burocratico scommettendo sui sindaci e sulle imprese. Qualcuno, non faccio nomi e cognomi, la CGL e l'ANAC hanno detto così favorisci i corrotti e i corruttori. Io penso che la storia dica esattamente il contrario, più lungo è l'iter burocratico dell'appalto, più uffici l'imprenditore deve girare, più purtroppo è facile durante uno, due, tre anni che il corrotto incontra il corruttore. Se invece di girare dieci uffici ne devi girare due, tu vedi che la voglia di qualcuno di ungere passa in seconda fila. Questo vuol dire che se qualcuno sbaglia, giumazzate. Però per evitare che uno su cento mi freghi complicare la vita agli altri 99 non fa sviluppare il Paese. I dati dicono che stiamo avendo ragione, abbiamo messo risultato, fiducia, libero accesso al mercato, liberalizzazione degli appalti, digitalizzazione completa della vita dell'appalto che è il massimo della trasparenza. Ho chiesto di mettere anche la salvaguardia del Made in Italy e quindi siccome chi ha un'impresa deve la 626, le norme ambientali, le norme sindacali, il trattamento dei dati, abbiamo previsto una premialità per chi usa materie prime che arrivano da Paesi che rispettano quello che rispettano gli imprenditori italiani. Mi se crederebbe fare il ponte sullo stretto di Messina andando a prendere acciaio e cemento che arrivano da Paesi dove magari non ci sono le norme sindacali o ambientali e i costi relativi che ci sono nelle nostre industrie. Abbiamo dato fiducia ai sindaci dei comuni piccoli e grandi. L'abuso d'ufficio su cui stiamo lavorando in Parlamento significa liberare dalla paura della firma soprattutto i funzionari. I dati ci dicono che nel 2021 su 5.000 fascicoli di abuso d'ufficio aperti a carico di 5.000 persone le condanne erano state 18. Quindi è chiaro che se c'è una fattispecie di reato abbastanza ampia con 5.000 presunti colpevoli perché purtroppo in Italia soprattutto per certa stampa se sei indagato non sei innocente fino a prova contra l'aria ma sei colpevole il giorno dopo in ufficio. Ecco su 5.000 presunti colpevoli 18 condannati vuol dire che quella fattispecie va assolutamente rivista. Stiamo andando veloce, il Made in Italy l'abbiamo detto, la fiducia ai sindaci dei piccoli comuni. Il ritorno dell'appalto integrato, qua ci sono dei sindaci perché magari in passato qualcuno a Roma pensava che tutti i comuni fossero Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo. Su 8.000 comuni italiani, 5.000 di questi comuni hanno meno di 5.000 abitanti. Quindi è chiaro che un ufficio tecnico comunale di un comune di 3.000 abitanti nell'entroterra della provincia di Potenza non ha l'ufficio tecnico con tre ingegneri, già tanto sia il vigile urbano, il segretario comunale e la commessa. Quindi evidentemente per prevedere l'appalto integrato vinci l'assegnazione e mi fai anche la progettazione su mia indicazione significa investire nel futuro. Questo mi dice che stiamo vicendo la scommessa. Qualcuno diceva che con il nuovo codice sarebbe bloccato tutto il sistema dell'appaltistica pubblica, entrato in vigore a luglio, abbiamo i dati 2023, più di 200.000 codici di gara per un corrispettivo di più di 100 miliardi di euro. Vuol dire che se fai risparmiare un anno di tempo al comune e all'imprenditore e al professionista tu acceleri invece che rallentare. Di questo sono assolutamente orgoglioso. Ecco, un passaggio sulle grandi opere a livello nazionale. Perché io in questo anno e tre mesi, come magari alcuni di voi se siete imprenditori o amministratori, mi scontro quotidianamente con i professionisti del no. E il no TAV, il no Ponte, il no Expo, il no Nucleare, il no TAP, il no Valico, il no Variante, il no Casello, il no. Sono quelli che godono nel contestare. E io dico, numeri alla mano, sono fondamentali le piccole opere. Per un paese di 3.000 abitanti è fondamentale anche la manutenzione della scuola materna, dell'edificio comunale e della palestra del liceo. Però l'Italia è Italia perché ha pensato in grande. I nostri genitori nel secondo dopoguerra hanno disegnato e costruito l'autostrada del sole. 800 chilometri in otto anni. Anche allora, io mi sono letto l'argumentazione, c'erano i no Autostrada del Sole. Siamo agli anni 50. Non cambia la storia perché qualcuno diceva non servirà a nulla, non la userà nessuno. Ecco, oggi pensare a un'Italia senza Autostrada del Sole è semplicemente follia. Ecco, noi stiamo portando avanti alcuni grandi progetti che qualcuno in passato ha provato a fermare che però dal mio punto di vista e dal punto di vista oggettivo e numerico stanno salvando il paese. Il primo di questi grandi progetti non è esattamente vicino a Potenza Matera ma qualcosa che sta proteggendo uno dei gioielli riconosciuti nel mondo all'Italia. Sono state girate nel centro storico di Venezia dove i danni sono incalcolabili. Mose, una delle opere più emozionanti che ho visitato all'inizio del mio mandato perché andare sott'acqua guardando quello che solo l'ingegneria italiana, come diceva quel docente olandese, poteva inventare, delle barriere mobili che fermano l'alta marea in mare con una camera di regia sotto il livello del mare è qualcosa di assolutamente incredibile. Quattro barriere, 78 paratie che fermano un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri corrispondenti a maree alte fino a 3 metri e i sostenitori del non funzionerà mai nel 2023 sono stati smentiti non una ma 25 volte. Pensate al danno economico, il Mose è costato, sì. Pensate solo al di là del danno turistico, del danno culturale, la basilica di San Marco, il danno commerciale, ma pensate a quanto ci sarebbe costato in termini di sarcimento e di assicurazione per 25 volte solo nel 2023 Venezia sott'acqua. Quindi se ragioni in grande arrivi a grandi risultati, se ragioni in piccolo nel nome di un proverbio che abolirei, che è il che chi si accontenta gode evidentemente non arrivi da nessuna parte. Dalle grandi opere idrauliche alle grandi opere di ingegneria ferroviaria, in progettazione a sud l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria. Dico in progettazione perché quando sono entrato al Ministero l'anno scorso non c'era la progettazione dell'alta velocità fino a Reggio Calabria, c'è io sono andato nel Bresciano e ci tornerò a metà febbraio sulla Brescia-Verona-Vicenza con l'asse che arriva poi a Venezia-Trieste, stiamo investendo miliardi di euro sul terzo valico, Genova, Milano, Torino per il triangolo industriale, però io sono assolutamente convinto che soprattutto le regioni del sud hanno il potenziale di crescita maggiore e quindi o crescono e tornano competitive tutte le regioni italiane, Basilicata, Molise, Calabria comprese, oppure saremo sempre fuori mercato rispetto agli altri grandi paesi europei. Quindi ho chiesto che si procedesse alla progettazione anche di tutte le linee a sud. È chiaro che un lucano mi dice sì però state facendo la Salerno e Reggio Calabria, state facendo la Roma, Napoli, Bari, ricordatevi anche di noi. E quindi sulla cartina geografica che ho in ufficio è chiaro che sto investendo sull'asse nord-sud, sto investendo sull'asse ovest-est, stasera vado a Bari e a lavori ultimati il treno sarà una vera alternativa su Bari-Roma, oggi Bari-Roma o la fai in aereo, la fai in aereo. Ha lavori ultimati tre ore da Roma-Bari e due ore da Napoli a Bari. Quindi come su Milano-Roma il Frecciarossa è una valida alternativa all'aereo, ha lavori ultimati da PNRR 2026 in tre ore Roma-Bari diretta e tu la scelta ce l'hai. È chiaro che il mio obiettivo è di comprendere anche quella parte di Calabria che oggi ne è esentata, includendo anche la Lucania. Stiamo ragionando su, ci sono altre regioni, ieri io ero in Umbria a inaugurare i lavori alla stazione ferroviaria e anche l'Umbria è sfiorata dall'alta velocità, quindi stiamo cercando di connettere tutto il paese. Però questo è assolutamente fondamentale perché stiamo investendo 30 miliardi in Sicilia per strade, autostrade e ferrovie fra Palermo, Catania e Messina, è chiaro che mi serve un unicum. Quindi questo significherà 200 chilometri, 13 miliardi di euro in investimenti, velocità massima 300 chilometri orari e c'è il primo lotto e sono i primi 35 chilometri in lavorazione, fine lavori 2026 da PNRR sulla battipaglia romagnano e come dicevamo questa è la decarmonizzazione vera, non l'auto elettrica a tutti i costi, la cura del ferro, la cura dell'alta velocità, alta velocità Roma-Palermo che è la prossima slide, al di là dei 3 mila posti di lavoro creati, 21 mila tonnellate all'anno di CO2 non emesse, a fine lavori questo è l'obiettivo. 6 ore di treno fra Roma e Palermo, perché dico a fine lavori? Perché oggi non so se a qualcuno di voi è capitato di attraversare lo stretto in treno, ieri ero alla fabbrica di Foligno dove mettono a posto i treni e le locomotive, oggi i treni arrivano a Reggio, si fermano, vengono spezzati perché sul traghetto ci stanno quattro vagoni e poi non può esserci la locomotiva a gasolio, quindi ci vuole quella batteria, viene messa sul traghetto, va dall'altra parte, viene rimontato per un tempo medio di un'ora e mezza, due, quindi tu capisci che se stai investendo miliardi nell'alta velocità e poi ti fermi due ore per attraversare tre chilometri di stretto diciamo che il piano economico finanziario non è particolarmente intelligente. L'ultima, 46 minuti, oggi non ho abusato della vostra pazienza perché dall'inizio alla fine, dalla Ferrandina Matera al ponte sullo stretto, la logica è una ed è unica, recuperare almeno 30 anni di mancati investimenti sulla rete infrastrutturale italiana, perché gran parte di quello su cui oggi percorriamo le nostre giornate di lavoro è figlio degli anni 60, 70, 80, però come una casa ha bisogno di manutenzione, un ponte, un viadotto, una galleria, una ferrovia, un binario dopo 30, 40 anni di vita o manutieni e innovi oppure ti blocchi l'intero paese. Quindi noi abbiamo scelto di rimettere decine di miliardi di euro sulla spina dorsale del paese unendolo, ripeto per me è assolutamente fondamentale collegare potenza e materia, però il ponte è stato normato per legge nel 1971, noi stiamo lavorando su tutta, sulla TAV, l'alta velocità per arrivare in Francia velocemente, la galleria del Brennor che è un tunnel ferroviario più grande in lavorazione in questo momento, ha lavori ultimati 2032 in 25 minuti da fortezza in provincia di Bolzano a Innsbruck, andando a 250 all'ora sotto le Alpi, che sono robe inimmaginabili, però c'erano 5 milioni di cittadini italiani che da 50 anni aspettavano questa benedetta continuità territoriale, è chiaro che avevano, pensate che ogni giorno ci sono migliaia di pendolari che fanno messina reggio avanti e indietro, studenti, avvocati, medici, professionisti e pensate al costo umano, economico e temporale. Quindi questa benedetta società creata nel 1971, l'abbiamo riportata in vita nel 2023 e l'obiettivo è di aprire i cantieri nell'anno del signore 2024 e penso che sarà un esempio, un modello della bravura degli ingegneri italiani che farà il giro del mondo, perché io da ministro sto andando in tanti paesi al mondo, sto sentendo professionisti italiani, lucani, lombardi, siciliani che stanno lavorando in Cina, in Turchia, in Argentina, in Svezia, in Danimarca, negli Stati Uniti, ecco per me farli tornare in Italia a lavorare uno dei progetti più ambiziosi del mondo sarà assolutamente emozionante. Grazie. E questo nella settimana in cui il Consiglio di amministrazione della società stretto di Messina il 15 febbraio approverà il progetto definitivo e sarà un passo in avanti tenete presente che nella società che parteciperà alla costruzione del ponte ci sono giapponesi, ci sono spagnoli, ci sono danesi, la società di progettazioni di ingegneria di consalto re americana, quindi è un trust assolutamente internazionale, però ragazzi stamattina leggevo venendo nel breve viaggio in macchina Roma Potenza che c'è in lavorazione il ponte più lungo del mondo in Cina, Messina Style. Ecco, da quest'anno verranno dalla Cina a studiare a Messina il ponte a campata unica più lungo al mondo che è questo, qua ho impalato chi era qua, mi dispiaccio, però sono 60 metri di larghezza, 400 metri i due pilastri che non sposano in acqua, a campata unica, lo dico per i non ingegneri come me circondato da ingegneri, ho fatto il classico storia, quindi campata unica significa per evitare i problemi delle maree, i tsunami, le correnti, un pilastro in Sicilia e un pilastro in Calabria, poi la gente deve stare tranquilla perché il ponte non lo fa il ministro, lo fanno gli ingegneri, quindi che sta su, resiste al vento, resiste al terremoto, ho imparato e non lo sapevo che più alta è una struttura meglio assorbe eventuali scosse sismiche e quindi sarà non solo un miracolo dell'ingegneria, ma io penso anche innanzitutto ai vantaggi economici per le imprese del sud Italia che oggi perdono ore e ore ad avere un collegamento continuo, ci saranno non solo sei corsie stradali, tre andare e tre tornare, ma anche due binari ferroviari, quindi la decarbonizzazione dello stretto passa da lì, queste sono stime vecchie che sono in corso di aggiornamento, però per darvi l'idea di quanto, torniamo un attimo indietro, avete sentito prima che c'era uno del Mose che diceva il Mose non serve, non funzionerà mai, ecco lo vorrei qua oggi per un dibattito pubblico, anche oggi c'è chi dice ma il ponte non serve, chi mai lo userà, queste sono stime del passato, pensate alla differenza fra migliaia di traghetti che emettono, inquinano e fanno avanti indietro e di avere 6.000 veicoli ora e 200 treni giorno che invece di metterci due ore ci mettono un minuto e mezzo, cioè ti cambia la vita di tutta l'impresa economica del mezzogiorno del paese e pensate anche all'indotto turistico, perché io in primis da turista quando vado in un paese al mondo, quando vai a San Francisco, quando vai a Istanbul, quando vai a Copenhagen, quando vai in Cina c'è il ponte famoso, quando uno va a Parigi non può non andare alla Tour Eiffel che fu messa lì e doveva rimanerci per poco per l'Expo e oggi una Parigi senza la Tour Eiffel uno non la pensa, ecco io penso che l'immagine del ponte oltre a servire economicamente ad avere una riduzione di impatto ambientale sarà anche un'immagine turistica per cui stia ragionando anche di come valorizzarla, i dati economici sottostimati mi dicono che gli occupati già nel primo anno di cantiere, quindi in questo 2024 saranno almeno 10.300 imprese coinvolte, il bello è in tutta Italia, i dati di una società terza di consulenza Open Economics, se qualcuno vorrà curiosare e googolare, Open Economics ponte, distribuiscono regione per regione, Basilicata compresa, l'indotto economico positivo in termini di occupazione e di incremento del PIL della realizzazione del ponte e pensate che la prima regione italiana, secondo i dati di Open Economics, ad avvantaggiarsi per maggior crescita del PIL è la Lombardia, quindi è qualcosa di cui beneficia tutto il paese, Basilicata ovviamente compresa, l'abbiamo interamente finanziato, per non fare le robe all'italiana mettiamoci lì un affisce e poi vediamo cosa succede, indietro non si torna perché l'avanti e indietro ci dà poca serietà a livello internazionale e il no degli ambientalisti è assolutamente surreale perché non occorre un ingegnere del Politecnico per intuire che se invece di migliaia di traghetti che mettono in acqua e nell'aria tu hai auto veloci e treni veloci, questa è sottostimata 140.000 tonnellate di CO2 in meno emesse nell'aria e farò di tutto perché l'Italia da quest'anno possa andare orgogliosamente con la più grande opera di ingegneria in costruzione in questo momento al mondo. Grazie per la visione! Ecco, in 56 minuti spero di avervi fatto capire che abbiamo grandi progetti per l'Italia e per la Basilicata in realizzazione al Ministero. Grazie. Mi sentivo molto Amadeus in questa... Grazie, grazie per l'attenzione speciale. Grazie. 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 Grazie.